Oh no! Ho sbagliato a fare i calcoli! La mia alga non cresce velocemente, ma lo fa super, ultra velocemente! Che cosa vuol dire? L'alga cresce a un tasso del 302,8% per 6,3... Shani, io non ci capisco niente di biologia. Cosa significa? Se la piastra si dovesse rompere nell'acqua, l'alga si moltiplicherebbe fino a riempire tutto l'acquario, poi i corsi d'acqua vicini e poi il mondo intero in pochi minuti! Ok, un approccio serio ha totalmente senso. Allora, CFUFMBQM, cosa farebbe una futura mini-biologa in questo momento? Vediamo! Cerco le tecniche di addestramento delle lontre. Ah! Questi animali imparano giocando! Date loro un premio quando toccano un bersaglio tipo una bandiera. Una volta abituate, le lontre faranno di tutto per avere il premio. Proviamo! Polly, prendi quella bandiera! Sì! Ok, cerco di far toccare la bandiera a quella lontra, così la distraggo e tu prendi la piastra! Pronto! Credo che vogliano giocare! Lontra, seduta! Tu, resta! Serve impegno! Ora non stiamo giocando! Shani, la brutta notizia è che quella lontra ha messo la tua alga nella tasca ascellare. Ma quella buona è che forse le ascelle delle lontre non puzzano tanto come quelle umane! Non male, vero? Se la piastra si rompe, le alghe invaderanno il pianeta! Per fortuna ho già un piano in mente! Credo che ce l'abbia lei! Seguila! Fermata! Stazione Ascella! Potere mini-polly! Caspita, queste lontre non hanno rubato solo la mia alga. È meglio se le portiamo con noi. Potere mini-orologio e bracciali! Non è la mia piastra. C'è davvero di tutto in questa ascella! Ma dov'è finita la mia alga?